Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video! Oggi voglio proporvi un make-up tutorial, un make-up effetto glam quindi molto scintillante, perfetto per una serata ma soprattutto, cosa importantissima, questo make-up tutorial è in collaborazione con un'altra youtuber bravissima che si chiama Mary, Mary Shelley vi lascio il link al suo canale nell'info box anche lei ha realizzato un make-up effetto glam, molto molto bello vi consiglio di andarlo a guardare è leggermente più intenso del mio, ma comunque è sempre effetto glam anche lei fa video tutorial, video di make-up, di bellezza, top preferiti, eccetera eccetera insomma è un canale di beauty, benessere e bellezza e andate assolutamente a guardarlo e iscrivetevi al suo canale se invece ancora non siete iscritti al mio canale, se volete iscrivetevi soprattutto vi ricordo di aggiungermi assolutamente su Instagram perché pubblico tantissime foto anche lì sono Rossi Make-up comunque trovate tutti i link nell'info box e niente, spero che il tutorial vi piaccia e mi raccomando votate il video e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao